Inaugurata a Monteroduni sulla statale Venafrana il primo caffè Alzheimer della provincia di Sernia, un punto di appoggio per tutte le famiglie che si trovano a gestire una disabilità neurodegenerativa così grave e piena di problematiche. Abbiamo il piacere finalmente di inaugurare qui nella provincia di Sernia il primo caffè Alzheimer Natura. L'abbiamo voluto chiamare proprio così perché questa è la sua peculiarità, perché i nostri ospiti potranno giovarsi delle passeggiate all'interno del giardino dove sono presente queste pianti officinali, le quali hanno un elevato contenuto terapeutico. Per quanto riguarda questo caffè Alzheimer Natura, tre sono le peculiarità. Il primo è il servizio navetta, in modo tale che tutti quanti, sia i pazienti che i familiari, possono avere la possibilità di raggiungerci comodamente direttamente a casa loro. li prendiamo e li portiamo qui nel nostro caffè Alzheimer Natura. E poi la possibilità sia per i familiari, perché normalmente il caffè Alzheimer nasce dalla volontà di dare un sollievo, un aiuto ai caregiver familiari. In questo caso invece, siccome poi alla fine si viene a creare il problema per i caregiver, quindi per i familiari, a chi affidare il proprio paziente, il proprio familiare nel momento in cui loro si assentano, quindi abbiamo pensato di creare questo doppio binario. In modo tale che nel momento stesso in cui i caregiver e i familiari hanno la possibilità di confrontarsi e di incontrarsi, i loro pazienti, diciamo i loro familiari malati, sono qui presso il centro Temenos, dove potranno fare questi laboratori cognitivi, diciamo, per il rafforzamento della memoria ed evitare così il progressivo avanzamento del degeneramento cognitivo.